che ci prenda a schiaffi non andrei adesso da quelle parti là no? non vabbè la partita ci stai tu? si cazzo, bello cazzo, tu una volta stai volando con me hai allungato il piede ma hai fatto spaventare non so cosa stai prendendo dall'attacco se tutto l'aereo che andavi in traverso si però non sono io qui eh e neanche tu no, questo no, questa è aria questa è aria cazzo, è anche cattivella lì dai vabbè dai, siamo l'isorello mettiamo la punta delle piante atterriamo per la 1-1 atterriamo 1-1 senza tanti complimenti metti in spunto allineato per la 1-1 e via dica le troppe del IA e avellatole giù alla svelta cazzo disidio che sfugge a un temporale pronti per l'atterraggio abbiamo il vento proprio da 1-1 perché mi sta scaracciando in là mi sta scaracciando a ore dopo in vista non chiamare via radio nessuno ha chiamato radio abbiamo una situazione medio di merda proprio di fronte a noi in fianco a noi e sulla nostra destra tutto a situazione libera adesso mi metto in base poi vi rompo quindi atterraggio super tattico prima che arrivi ci sono tre cellule una là in fondo una su peschiera una lì su basso gare e una su Brescia ce la andiamo proprio a cercare che emozioni adesso a che ridere quando le raccontiamo questo adesso al suolo non ci dovrebbe essere molto vento no meno male è solo qui cazzo ok è stato giù di cattiveria è stato giù di un dritto cioè non ho tutto motore ma un bel po' il motore là davanti basta il rumore in fronte la riduce tanto l'ho adesso vediamo riduce anche uno spunto questo e G2 in action l'altra sinistra cellula temporalesca di grado livello 5 alla nostra di fronte a noi temporale di grado 8 ma che brutto questo è brutto no no non so se vi te l'è meglio atterraggio buono 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 dai va bene prima che cominci a arpente si aspetta sul se stop come è il vento? no è buono è buono è a raffiche è a raffiche verso sud sento ok ero con una ero con una ok buono metto attraverso ok perfetto Gidio Gidio liberiamo subito buono che culatte che culatte no ho preferito andare giù con una tacca di plat in questo caso perché era molto rafficato guarda che bastarda valutazione perfetta guarda direi